Ciao e ben ritrovati per questo nuovo video dedicato all'imaging planetario. Quasi tutti i corpi planetari del Sistema Solare hanno un'elevata luminosità, ma dimensioni angolari estremamente piccole. Questa è una sostanziale differenza rispetto alle riprese fatte sulla Luna o sul Sole. Inoltre un punto dolente è la turbolenza atmosferica, cioè l'agitazione dell'aria, che può degradare fortemente le immagini acquisite, impedendoci di riprendere i dettagli delle superfici planetarie. Con l'intenzione quindi di completare la panoramica su Autostackert, vorrei illustrarvi alcuni altri comandi ed impostazioni di questo programma per l'allineamento e la somma delle immagini planetarie. Ma continuate a guardare questo video se volete saperne di più. A fra poco! Per questo video utilizzerò una ripresa di Giove in RGB. Apriamo quindi la nostra ripresa in Autostackert. La prima cosa da fare è andare nella sezione Image Stabilization e scegliere l'opzione Planet. In questa modalità Autostackert rileverà automaticamente la soglia che separa i pixel luminosi del pianeta dal fondo scuro del cielo. Come opzione extra è possibile selezionare Dynamic Background, che può aiutarci quando abbiamo fatto riprese al croppuscolo o all'alba ed abbiamo quindi una luminosità variabile dello sfondo. Se invece disattiviamo Dynamic Background possiamo indicare la soglia di luminosità del fondo cielo in modo manuale con questo slider. Procedendo oltre abbiamo il Quality Estimator di cui avevamo parlato in precedenza. Qui sceglieremo il valore più adeguato in base alla nostra acquisizione. Se non siamo sicuri lo lasciamo ad un valore medio come 4 o 5. Una funzione utile quando abbiamo ripreso con troppo sfondo nero intorno al pianeta è usare i tasti Width e Height per ridurre le dimensioni, croppando sostanzialmente il filmato. È possibile anche usare il mouse schiacciando contemporaneamente il tasto Shift. Poco sotto il Quality Estimator abbiamo le due voci Local e Global. Se spuntiamo Local il Quality Estimator selezionerà le migliori aree intorno a ciascun punto di allineamento per ogni fotogramma del video, mentre Global valuterà la qualità di ogni fotogramma nel suo insieme. Quindi selezionerò Local. Per poter utilizzare i punti di allineamento dobbiamo prima impostare gli stessi nella Frame View. È sufficiente cliccare su diverse aree del pianeta in questo modo per definire una prima griglia di punti. Il programma quindi cercherà di analizzare la posizione di ogni punto nel suo variare di fotogramma in fotogramma. Proverà quindi a rimetterli nelle stesse posizioni per compensare il cambiamento delle caratteristiche dovuto alle distorsioni di visualizzazione. Restituendo quindi alla fine un'immagine statica priva di distorsioni. Ma un'importante domanda qui è quanti punti di allineamento bisogna usare e come posizionarli? Innanzitutto bisogna sapere che se non si vuole aggiungerli manualmente Autostackert può farlo in modo automatico usando l'opzione Place App Grid. È possibile variare la dimensione dei quadrati dei punti di allineamento selezionando questi preset. Cliccando su queste freccette oppure scrollando col mouse. Questi numeri indicano la misura in pixel. In generale i punti con dimensioni più piccole funzionano bene quando le acquisizioni sono buone e le caratteristiche di superficie sono nitide nei vari fotogrammi. Viceversa è consigliabile utilizzare una dimensione più grande. Anche nelle riprese lunari è consigliabile usare punti di grande dimensione. Se non si è sicuri di quale dimensione funzioni meglio una buona opzione è usare multiscale. Cercandola Autostackert creerà una griglia AP con quadrati più grandi sovrapposti a quelli più piccoli. Quando un punto più piccolo non fornisce informazioni sufficienti Autostackert utilizzerà le informazioni del punto più grande e superiore ed anche di quelli adiacenti per determinare la posizione migliore per quella particolare area. Un'altra cosa da controllare è il Min Bright. Una cosa assolutamente da evitare è che i punti di allineamento siano troppo vicini al bordo del pianeta. Autostackert infatti potrebbe avere problemi a determinare la posizione corretta del bordo del pianeta quando la maggior parte dei punti di allineamento copre lo sfondo nero anziché il pianeta. Quindi aumentando il valore di Min Bright possiamo notare che i punti di allineamento saranno posizionati più verso l'interno del pianeta. Per questo video impostiamo la dimensione del punto di allineamento a 48 pixel con multiscale attivo e una luminosità minima di 30. Quando clicchiamo su Place Apigrid noteremo che questo produce una bella griglia di punti di allineamento sempre più piccoli che coprono principalmente il pianeta. Purtroppo è difficile automatizzare completamente l'allineamento. Molti major planetari sostengono che il posizionamento manuale dei punti di allineamento può spesso comportare un'immagine sommata del pianeta di qualità superiore rispetto all'utilizzo dell'opzione automatica. È possibile aggiungere facilmente punti di allineamento a sinistra cliccando sul fotogramma del video. Se non si è soddisfatti delle dimensioni del punto di allineamento si può regolare la misura utilizzando la rotellina del mouse o facendo clic sulle frecce su e giù nella frame view. Ci sono un paio di suggerimenti da tenere in considerazione quando si aggiungono manualmente i punti di allineamento. Come già detto prima evitare di posizionare i punti troppo vicini al bordo del pianeta. In questo video li posizioneremo vicino al bordo ma dentro il pianeta, non troppo vicino allo sfondo nero. In secondo luogo è meglio posizionare i punti in aree ad alto contrasto come per esempio intorno all'ombra di uno dei satelliti gioviani. Purtroppo in questo caso non abbiamo aree così ricche di contrasto ma è una buona idea posizionarne alcuni sui bordi delle fasce equatoriali. Ricordiamoci poi che i punti di allineamento dovrebbero sempre avere una sovrapposizione sufficiente in modo che se un punto di allineamento non fornisce informazioni insufficienti le informazioni dei punti adiacenti possono essere efficacemente utilizzate. È consigliabile anche aggiungere punti in modo che coprano l'intera superficie del pianeta. Quindi posizioniamo alcuni punti grandi sopra quelli più piccoli per assicurarci che ogni parte del pianeta sia coperta. Dopo aver posizionato i punti è ora di premere il pulsante Analyze. Il programma ora valuterà la qualità di ogni punto di allineamento in ogni fotogramma del video. Quando l'analisi del video è completata, come visto la scorsa volta, il programma ci restituisce un diagramma chiamato Quality Graph sul quale però non mi soffermo in quanto lo avevamo già visto. L'opzione Normalize Stack è disponibile quando scegliamo Planet CoG. E serve per normalizzare l'istogramma compensando gli sfondi più luminosi del normale. Selezioniamo quindi Normalize Stack. Questo è utile se abbiamo variazioni di luminosità da un fotogramma all'altro dovute a elementi come nuvole che passano o una trasparenza variabile. Semplificherà inoltre la messa a punto del bilanciamento del colore dopo l'elaborazione di più acquisizioni poiché ogni stack è costretto ad avere la stessa luminosità finale. Sotto la voce Reference Frame abbiamo Double Stack Reference il quale serve per creare due immagini di riferimento della miglior qualità dei frame del video. Personalmente ogni volta che l'ho provato testa a testa con la normale versione Single Stack il Double Stack ha prodotto un risultato notevolmente inferiore quindi lo lascerò disattivato. Da qui in avanti il procedimento è assolutamente analogo a quello già mostrato nel video relativo all'imaging lunare. quindi clicchiamo su Stack e attendiamo di vedere i risultati. Bene questa è l'immagine che abbiamo ottenuto nella versione normale e in quella diciamo più nitida. Naturalmente tutto ciò è relativo solo ad allineamento e somma ed è ciò che normalmente si ottiene in una serata di consing medio. Naturalmente poi andremo ad elaborare successivamente l'immagine che abbiamo ottenuto. Il mio consiglio è di fare sempre prove con impostazioni differenti in modo da trovare quelle più adatte. Con questo video concludo la panoramica su AutoStacket ma vedremo in futuro come acquisire e come elaborare le immagini planetarie. Spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Voglio ricordarvi che potete supportare la crescita del mio canale mettendo un po' il pollicione all'insù commentando e condividendo il video facendo passaparola ma soprattutto iscrivendovi in modo da non perdervi i prossimi interessanti contenuti. Non mi rimane che augurarvi cieli sereni e ci vediamo sempre qui al prossimo video. Ciao e a presto. Grazie.